Una volta impostato il sistema andiamo a creare il materiale. Criamo il material editor che in questo caso è quello classico, quello compattato volendo se siamo in modalità slate è un pochino più articolata, è una gestione a nodi che si può utilizzare per altri sistemi di lavorazione, sicuramente non per questi un pochino più semplici, possiamo passare con Mod Compact Material Editor. Preferisco utilizzare in questo caso la versione compatta poiché essendo più piccola mi permette di vedere in tempo reale quello che sto realizzando. Andiamo a crearci quindi un materiale standard poiché stiamo utilizzando anche un sistema di renderizzazione standard e come prima operazione andiamo a inserire un gradiente nel diffuse. Quindi standard, un gradient, un semplice gradient e andiamo a impostare una colorazione più vicina sicuramente a quella di una nuvola. Quindi potremo o virarla un pochino sull'azzurro oppure tenerla tranquillamente a colori un pochino più vicini al grigio. Non utilizziamo un bianco puro al 100%, preferisco utilizzare un bianco vicino a un 230 poiché se è troppo puro abbiamo grandi difficoltà quindi nella gestione, quindi avremo sicuramente difficoltà nell'highlights, quindi anche nella post-produzione. e come tipologia possiamo utilizzare un radial. Utilizziamo una versione fractal, una visualizzazione del materiale, volendo se uno volesse potremmo anche utilizzare un minimo di noise oppure lasciarlo tranquillamente senza. La stessa tipologia di mappa andremo ad applicarla anche nell'opacity. Quindi la copiamo e la portiamo in opacity come copia. Come copia poiché se io vado a utilizzare la stessa identica tipologia di mappa, la vado naturalmente a applicare al mio sistema, alle mie particelle, quindi seleziono le particelle e le applico e il renderizzo, noterò che non funzionerà. Questo per due semplici motivi. Uno è che bisogna utilizzare un sistema di maschera all'interno della mappa di opacità con le particles. Quindi andiamo a crearci una mask, manteniamo la mappa sottostante e anche in questo caso come maschera utilizziamo un gradiente. Copiamolo. Naturalmente andiamo a segnare i colori in bianco e nero per poter usufruire al meglio della maschera. Questa sarà con i valori di default. Mentre nella, in questo caso andiamo a impostare i colori sempre sul grigio, mentre in questo mio layer andiamo a impostare un gradiente un pochino diverso. Andiamo a impostare un po' di noise, quindi magari un amount pari a 1. Andiamo a modificare la dimensione, possiamo portarlo per esempio a 10, in modo tale da avere una mappa di questa tipologia. Possiamo utilizzare un fractal, volendo potremo anche lavorare sulla soglia del noise, quindi se avere dei valori più alti o più bassi. andiamo a verificare che però nel noise, nella mappa del noise, sia impostata in maniera regolare e non frattale, ok, come i valori di default. Una volta che abbiamo impostato questo materiale possiamo renderizzare. Notiamo che adesso non vediamo assolutamente niente, anche se neanche nell'alpha. Questo per un semplice fatto che tra le opzioni basilari dello shader, quando utilizziamo una tipologia di facing come particelle, dobbiamo utilizzare un face map. quindi spuntiamo face map, questo vuol dire che quando andremo a renderizzare, ogni particles sarà considerata, sarà mappata con una dimensione di 1, comunque grande quanto la particles, in base alla mappatura stessa. quindi il mio gradiente, in parole povere, sarà grande quanto, se infatti vado a visualizzarlo in viewport, noto che il mio gradiente è grande quanto un'intera particles. Altro parametro da impostare, sicuramente non avremo grossiness, quindi possiamo portarlo a zero. Se non siamo soddisfatti per la resa, se secondo noi c'è qualcosa da modificare a livello di opacità, di maschera di opacità, possiamo tranquillamente lavorare sull'opacity sul canale del mask. Per esempio potremmo, questo mi ha portato a zero, potremmo lavorare un minimo sul radial, portare una maschera al 100%. Naturalmente possiamo anche andare a variare i colori, se ne vogliamo un pochino più particolari. E al tempo stesso, volendo, potremmo anche in questo caso andare a lavorare con il noise, per ottenere una mappa differente. Andiamo a renderizzare. Meglio riportarla sicuramente con dei colori. Renderizziamo e ci siamo creati la nostra nuvola. Grazie a tutti. Grazie a tutti.